Qualche giorno ha dei valori muscolari, pensavo di prendere una t***a Ti sei andata dal medico? No, però penso che sia la cosa più giusta, prendere una t***a Sì, però anche per le cose più banali è importante contestare un medico In base a questi sintomi le prescrivo questo farmaco Bene, grazie In base a questi sintomi le prescrivo questo farmaco Ok, allora, io vado a prenderlo subito, arrivo Grazie mille Preferisce a c***o il farmaco equivalente Che cos'è un farmaco equivalente? Il farmaco equivalente generico è un farmaco che ha lo stesso principio attivo E la stessa forma farmaceutica di un farmaco così detto di marca Però differisce del prezzo È fondamentale lentere sempre il foglietto illustrativo prima di assumere qualsiasi farmaco Io equivalgo Io valgo